Scalza i concetti La via della conoscenza attraverso Attilio M vocedellacuiete.vaianocchiocciola.gmail.com Soggetto Proviamo a questo punto del nostro percorso a riflettere su quanto è stato detto fino a questo momento. La via della conoscenza si presenta come un sentiero che lavora sulla mente che apre l'uomo ad alcune diverse verità ma semplicemente perché scalza i concetti che l'uomo ha eretto mentre praticava quella che abbiamo definito la via evolutiva. Ma abbiamo anche visto che una volta che l'uomo ha accettato questo scalzamento e addirittura si è impossessato parzialmente di questo scalzamento perché è rimasto affascinato dalla via della conoscenza si ritrova spesso ad esaltare e a difendere la via della conoscenza e a difendere a poco a poco quel vuoto parziale dei vecchi concetti che si apre dentro di lui senza riflettere davvero sul fatto che nello stesso momento in cui la via della conoscenza lo scalza gli offre altri concetti che certamente, come abbiamo detto sono più restrittivi per la mente ovvero sia tolgono spazio alla mente ma che tuttavia rappresentano sempre un qualche senso che lui può collocare sull'esperienza che sta facendo su questo percorso che sta facendo grazie a tutti